Innanzitutto l'importante proposta di iniziativa popolare che comporterà l'abolizione delle province e l'accorpamento dei comuni più piccoli che per l'appunto potranno incidere notevolmente sui tagli ai costi della politica e quindi risparmi che potranno essere rinvestiti per il rilancio allo sviluppo e alla crescita del nostro paese. Successivamente una proposta di legge che prevede la riduzione del numero dei parlamentari e dopodiché una proposta di legge per l'indizione di una commissione di inchiesta parlamentare per controllare la gestione delle società partecipate e le nomino soprattutto nelle società partecipate. Tre le proposte di legge a cui i parlamentari di Futura e Libertà per l'Italia stanno lavorando per ridurre sensibilmente i costi della politica. Leggi che se saranno accolte favorevolmente anche dalle altre forze politiche come auspicano gli esponenti di FLI potrebbero vedere la luce nel giro di sei mesi accogliendo sollecitazioni che vengono direttamente dai cittadini. In un momento in cui si chiedono sacrifici ai nostri cittadini i parlamentari di Futura e Libertà pretendono che anche la casta e anche la politica e quindi anche i nostri parlamentari facciano i sacrifici e quindi si vada nella direzione di una riduzione di quelli che sono i costi della politica. La riduzione del numero dei parlamentari sarà sostenuta da una raccolta di firme che inizierà a settembre in tutta Italia e che mira a fissare un tetto massimo per gli onorevoli a 400 e per i senatori a 200 in linea con la media europea. In questo modo il rapporto tra deputati e residenti passerebbe a uno ogni 151.000 per la Camera e uno ogni 302.000 per il Senato secondo criteri di efficienza ed economicità. Gli stessi criteri che insieme alla meritocrazia dovrebbero secondo FLI essere alla base delle nomine ai vertici delle società partecipate. Sotto la lente di ingrandimento della Commissione a quel punto potrebbero finire anche le bresciane A2A, Brescia Sviluppo, Brescia Mobilità e Centrale del Latte.